Dopo la bruciante sconfitta all'esordio Orzinuovi, la pallacanestro Cantù ha conquistato la prima vittoria nel campionato di Serie A2 2024-2025. A Rieti i Brianzoli si sono imposti con il punteggio di 68-74. Una affermazione giunta grazie ad un'ottima parte finale della formazione di Nicola Brienza, che tra l'altro non ha potuto schierare il capitano Baldirossi, infortunato. Un successo importante, oltre che per la classifica, per morale e autostima. Dopo un inizio di stagione poco confortante, con l'eliminazione in semifinale in Supercoppa e la prima Orzinuovi chiusa con una battuta d'arresto. È stata la partita che ci aspettavamo, una battaglia sportiva e alla fine siamo stati premiati. Muovere la classifica è stato molto importante, ha detto coach Brienza nella conferenza stampa dopo la gara. Per la pallacanestro Cantù non c'è tempo per riposare. Mercoledì alle 20.30 è infatti in programma recupero con Brindisi ad Esio. La gara era stata rinviata per l'incidente nell'aeroporto di Orio al Serio, che aveva di fatto bloccato l'arrivo in Lombardia della compagine avversaria. Il club Brienzolo ricorda che i biglietti emessi per il match del 2 ottobre saranno considerati validi per l'accesso al paladesio. Coloro che fossero impossibilitati ad assistere alla sfida potranno poi richiedere il rimborso del tagliando.